Siamo a San Menaio nei pressi del Lido Marechiaro, è stato rivenuto qualche ora fa uno scheletro sulla spiaggia, abbiamo cercato di avvicinarsi, purtroppo non ci è stato consentito perché si è attesa probabilmente del magistrato e non si sa quindi i particolari di questo ritrovamento, però potremmo anche dire che potrebbe trattarsi di quel pescatore che diversi mesi fa è praticamente scomparso nel mare vicino a Vieste. Per le prime indiscrezioni sembra che i resti di questo cadavere che è stato rivenuto avesse un pantalone lungo, quindi potrebbe essere sicuramente un elemento per la sua individualizzazione.